Guido Sperante Guido Sperante è stato il mio paziente zero, perché è stato lui per la prima volta a mostrarmi la possibilità di passare da un prima a un dopo, da un'idea che le persone hanno di loro e la possibilità di cambiarla. L'ho conosciuto perché lo inviarono i medici, aveva avuto una diagnosi di malattia e ricordo perfettamente la prima frase che mi disse sono qua perché loro, i medici, mi hanno inviato. Io non ne sentivo la necessità, ho sempre pensato di fare bene la mia vita, perché poi, dottoressa, sono sempre stato fortunato la fortuna. Per Guido Sperante era una parte importantissima della sua vita. Ma quand'è che aveva cominciato a pensarlo? Quand'è che un'idea entra nelle vostre teste e vi accompagna per tutta la vita magari e vi potrebbe condizionare senza che voi ve ne possiate accorgere? Allora chiesi a Guido Speranza quando è che per la prima volta pensò di essere fortunato? Perché a tutti capita, prima o poi, di sentirsi dire che sei fortunato o pensare di essere fortunato? Allora lui cercò nella sua memoria e mi raccontò di quella volta, in prima liceo, che tornò a casa felice e contento. Aveva preso un bellissimo voto in matematica, lo disse a sua madre. Sua madre, fiera, la sera lo raccontò a cena e venne interrotta dalla frase del fratello di Guido che disse «Oh Guido, però sei stato fortunato, eh! Ma può uno studente andare bene a scuola perché è fortunato? Lasciamo da parte tutti quelli che copiano. Non è che per caso uno studente possa andare bene a scuola perché studia? Ammettiamo anche che uno abbia studiato poco, un po' meno, dell'esagerato, ma fa una bellissima interrogazione e il professore lo premia. È fortuna? O è la capacità di quella persona di avere colto i concetti chiavi e di averli tradotti nella sua bellissima interrogazione? Ma ammettiamo anche che uno abbia proprio studiato poco, poco, poco. Però riesca a portare a casa un bel 6 quando pensava di portare a casa un 4. È fortuna o capacità? È la capacità di quella persona di aver creato una buona relazione con l'insegnante, di avere preso dalle sue memorie quella parte che gli ha permesso di portare a casa il 6. Cosa accadrebbe se noi iniziassimo a cambiare l'idea della fortuna? Chiesi a Guido Speranza durante i nostri colloqui di non usare più la parola fortuna, di fare un esercizio. Un esercizio che, se vi piacerà, lo potrete fare anche voi tornando a casa o nei prossimi giorni, ripensando a questa giornata. chiesi di togliere dalle nostre conversazioni, dai nostri colloqui la parola fortuna e di sostituirla con sono stato capace, sono capace. Per poterlo fare, però, perché è difficile come esercizio e se voi ci ripensate, se voi ci state pensando in questo momento, vi accorgerete che tantissime volte voi lo dite, di voi stessi e degli altri. Molte volte più degli altri quando dice siete stati capaci, siete stati fortunati a portare a casa quel risultato. E allora chiesi a Guido Speranza di iniziare a parlare di capacità e per poterlo fare presi in prestito un termine dal campo della sicurezza sul lavoro, NERMIS. NERMIS sono gli eventi che potevano andare gravi, che potevano essere mortali, gli infortuni che non sono accaduti. Nella sicurezza sul lavoro si studiano questi eventi che potevano essere drammatici ma che poi non si sono verificati per una serie di coincidenza per poter fare prevenzione. Faccio un esempio. Su un'impalcatura c'è un operaio accidentalmente dimentica il martello. Passa di lì un altro operaio e accidentalmente di nuovo urte il martello. Quello cade, precipita, ma non colpisce l'operaio di sotto. Questo normalmente viene chiamato colpo di fortuna. la sicurezza sul lavoro va a analizzare questo evento e cerca di capire che cos'è accaduto, quale comportamento poteva essere introdotto per evitare un possibile incidente o quale comportamento c'è stato che ha evitato il possibile incidente. E allora chiesi a Guido di ripensare un evento della sua vita, un evento rischioso dove lui aveva pensato di essere stato fortunato. Ci pensò. e si ricordò di una volta da bambino, aveva sei anni e era andato con il Bob in un bellissimo campo pieno di neve insieme ai suoi fratelli e agli amici. Quando fu il suo turno lui salì sul Bob con la sorella e poi si buttarono giù lungo questo campo. Ma invece di andare verso l'uscita del campo presero la direzione sbagliata e andarono verso il filo spinato. Ma dottoressa, per un colpo di fortuna ci sdraiamo sul Bob e passiamo sotto il filo spinato. Io ricordo ancora la parola di quel giorno e il filo che mi passava sopra poco poco distante dal volto. Bene, Guido, rileggiamo la stessa storia ma guardiamola in modo diverso. Perché salì sul Bob con sua sorella? Ah, fu lei, disse, vieni con me e io avrei scelto lei tra mille perché lei mi ha sempre dato sicurezza. ma poi quando siete scesi da questo campo cosa è accaduto? Perché voi vi sdraiaste, vi appoggiaste la schiena sul Bob. Eh, dottoressa, c'è stato un balzo Guido e dottoressa aspetti no, dottoressa mia sorella mi abbracciò mi prese e io mi lasciai andare a lei e insieme passammo sotto. Ma dopo Guido siete tornati sul campo? No, troppo pericoloso quel gioco. Allora Guido mi faccia capire. Ha scelto a sua sorella. Sua sorella ha avuto i riflessi pronti e lei si è fidato di sua sorella e alla fine avete anche scelto di non fare quel gioco pericoloso. Allora Guido voi siete stati capaci. Certo, è ovvio, era molto meglio che Guido non corresse quel rischio quel giorno. Però quante volte a voi è capitato nella vita di correre dei rischi avete anche rischiato magari di morire o di farvi molto male ma non è accaduto e voi avete detto per fortuna e invece era perché eravate sobri avevate scelto la persona giusta e avevate i riflessi pronti e siete magari stati attenti. Ma cosa accadrebbe se da qui uscendo da oggi in poi non usate più la parola fortuna e iniziasse a dire che siete capaci? forse non succederebbe nulla o forse tutto cambierebbe ma cosa accadrebbe se un genitore un insegnante un medico una persona che si relazioni col prossimo chiunque un amico dicesse agli altri se è stato capace siete voi che conoscete le vostre storie voi potete andarle a rileggere tutte e solo voi lo potete fare andare a rileggere quelle storie belle o meno belle che avete svalorizzato con un semplice colpo di fortuna vedete Guido Speranza è stato capace di iniziare a parlare di se stesso e degli altri con molto rispetto pensando di essere parte di un processo decisionale noi viviamo una vita pensando di poter controllare tutto ma molte cose sono fuori controllo e molte volte le persone hanno paura del fuori controllo ma non pensano che molte volte quel fuori controllo può essere governato dalle proprie capacità dalle proprie possibilità di vedere quello che riescono a fare io vado a concludere ma ho una sorpresa per voi Guido Speranza è qua e io ve lo voglio presentare io spero che siate felici di conoscerlo perché è giunta l'ora che anche voi lo conosciate lo volete conoscere? più convinti giratevi sulla vostra destra lo vedete? è la parte migliore di chi vi sta accanto è la parte migliore di voi in ognuno di voi c'è un Guido Speranza tu sei il tuo paziente zero tu sei il tuo paziente zero tu sei il tuo paziente zero perché sarà la capacità di permettervi di capire che potete partire da un prima che è il vostro pensiero per arrivare a un dopo che è il futuro che vorrete future you grazie